Tra realtà e fantasia, tra l'esperienza di un ex consigliere comunale di Modica e l'immaginazione avventuriera di un comune padre modicano. Due mondi separati, ma che il neo scrittore Pierpaolo Stracquadaneo ha voluto sposare ed amalgamare tra le righe di un libro. Il primo di una trilogia già programmata con la casa editrice Chiado. Non è altro che un romanzo di fantasia di cui il protagonista sono io e la location è Modica. Giustamente parlo di me, quindi in veste di consigliere comunale, e giustamente parlo della politica spicciola, diciamo, che viviamo quotidianamente nelle piccole realtà, raccontando una serie di vicende fantasiose che le collego alla politica. Diciamo che è stata la politica innescarmi questo meccanismo di esprimere la mia fantasia, però proprio per smorzare gli animi, per fare capire che non è né una denuncia né, e non è neanche una critica sulla politica di oggi, ed è solamente un libro di fantasia. E soprattutto lo difrisco d'avventura, perché la mia esperienza da consigliere comunale, gli amici che mi domandano, gli dico che è stata un'esperienza avventurosa. Senza ombra di dubbio, come tu dicevi poc'anzi, ex consigliere, senza ombra di dubbio la mia intenzione in queste ultime elezioni saranno quelle di non presentarmi, perché mi è bastata questa esperienza.